Da una parte lo scarico fuori legge di rieflui zootecnici nel torrente località Ponte di Ferro, dall'altra la risposta immediata del sindaco Franco Palumbo. Il pugno duro del primo cittadino nei confronti dell'azienda responsabile dello sversamento killer chiede rispetto delle regole e legalità. Due punti fermi del governo Palumbo scanditi nelle ultime ore della task force attivata per individuare il responsabile di quello che il sindaco definisce un atto criminale. E aggiunge, abbiamo inviato la Polizia Municipale in sopralluogo sul posto dove hanno ripercorso a ritroso il ricorso del fiume individuando l'azienda responsabile dell'atto. Sono state avviate tutte le procedure sanzionatorie di rito e i responsabili sono stati deferiti all'autorità giudiziaria. In più sono in corso certamente sui titoli autorizzativi e i fini edilizzi perché se non ci sono determinate condizioni procederemo ad oras ed emettere ordinanza di sgombero.